Buongiorno, di solito passo nelle classi a salutare e a fare gli auguri alla vigilia di ogni festa, di ogni vacanza. Quest'anno evidente non è possibile perché la scuola è quasi deserta per via della pandemia e quindi ricorro di nuovo al sistema del videomessaggio per farvi sentire la mia vicinanza e quanto appunto comunque in ogni caso si sia vicini. La Pasqua arriva sempre con la primavera, ogni anno e ha a che fare con l'idea di cambiamento e con la rinascita e quindi in questo momento credo che più di ogni altro anno abbiamo proprio bisogno di questo, di sperare che questo cambiamento e questo ritorno alla normalità, di ritorno ad essere vicini fisicamente e di rinsaldare come si deve i nostri legami, arrivi il prima possibile. Io sono ottimista, sappiamo già che il 7 saremo in presenza di nuovo con l'infanzia, la primaria e la prima media e confido che prima possibile ci si riveda a scuola anche con le seconde e le terze medie e quindi a tutti e a tutte tantissimi auguri, anzi come faccio sempre con i piccoli, sottovoce tantissimi auguri e a presto!